Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un metodo per poter salvare tutti i tipi di Joker, e dico veramente tutti, tutti i tipi di Joker colorati, verde, arancione, rosso, viola, marrone, grigio, bianco, azzurro, tutti, praticamente tutti i tipi di Joker per il personaggio donna ragazzi. Per il momento ho trovato questa cosa solo per il personaggio donna, quindi vi porto questo qui in pratica. Allora, in primis ragazzi dobbiamo fare il glitch che trovate nella freccia in alto a destra, dove vi sta indicando la freccia, trovedete il tutorial completo per fare questo glitch. Io in questo video non andrò a fare il tutorial completo perché altrimenti mi chiederebbe troppo tempo, e quindi nulla. Andate sulla freccettina che avevate visto e lì troverete il tutorial completo. Allora, prima cosa che dovete fare ragazzi, venite, una volta che avete fatto il tutto ovviamente, venite sul vostro secondo personaggio e selezionate questo completo che io ho appena selezionato. Una volta selezionato questo completo dovete andare in pantaloncini ragazzi e comprare praticamente tutti i pantaloncini che adesso andremo a vedere. E sul personaggio uomo, a partire da questi, non questi qua ragazzi, quelli a forma di cuore, quelli con i cuori, ecco questi qui. Quindi andremo a comprare questi e salveremo il completo. E andremo a comprare tutti quanti gli altri a seguire, senza toccare il resto del completo ragazzi. Perché in questo modo andremo a salvare solamente i jogger per poter fare i nostri completi per il personaggio donna con i jogger colorati ovviamente. Quindi come sto facendo io, andiamo a salvare, comprare, premiamo quadrato e salviamo il completo. Vedete, io compro, premo quadrato e salvo il completo. Compro, premo quadrato e salvo il completo. E salviamo tutti questi pantaloncini, tutti quanti. Vi dico tutti perché alcuni non vi danno in pratica il pantalone, quindi adesso non so bene quali sono. E quindi andiamoli a salvare automaticamente tutti. Quindi li andremo a salvare tutti, poi quelli che non abbiamo necessità, quando sarà li cancelleremo. Quindi una volta che li abbiamo salvati tutti, diciamo che abbiamo tutti quanti i nostri jogger. Quindi aspettate un attimo, io adesso faccio la procedura e salvo tutti quanti i pantaloncini, insomma ragazzi. Calcolate che ogni pantaloncino ha un colore del jogger. Poi ovviamente se metterete qualcos'altro sopra, vi farà un completo diverso. Però comunque sì, avrete anche la possibilità che non vi salvi i jogger dal secondo al primo personaggio. Quindi se fate così, diciamo che avete la possibilità di poter salvare tutti quanti i jogger e di portarli al primo personaggio che ovviamente sarà a donna. Sto cercando un metodo per poter fare tutti quanti i jogger di colore per il personaggio uomo. Però purtroppo online non si trova un cazzo. Io questa era una prova che stavo facendo e mi è uscito fuori e quindi ho voluto portare questo video. Siccome sto facendo svariate prove sia per i completi maschili che femminili, ho visto questa cosa. Quindi a questo punto, dopo aver fatto tutti i procedimenti del glitch, torniamo nel nostro primo personaggio. Io vado a salvare questo completo perché mi interessava salvarlo. Torniamo nel primo personaggio e andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto ragazzi. Quindi qui avremo tutti quanti i nostri jogger. Aspettate un attimo. Questo per esempio è un completo che non si è salvato ragazzi. Però comunque sia, adesso vi faccio vedere tutti gli altri. Abbiamo i verdi. Abbiamo gli arancioni. Abbiamo i viola. Abbiamo i rosa. Abbiamo i rossi. Gli azzurri. I grigi. I marroni. Insomma ragazzi, veramente i bianchi e i niri. Abbiamo veramente tutti i tivi di Joker. Quindi che altro aggiungere ragazzi? Fate i vostri completi. Ovviamente portate i jogger se vi interessano dal secondo personaggio al primo personaggio per il personaggio donna. Visto che nelle modalità competizione mi sembra che non è più possibile portare fuori tutti questi Joker. Questo è un metodo buono per poter portare fuori tutti quanti i nostri Joker. Detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere. Spero che questo video vi piaccia. Un saluto a tutti. Al prossimo video. Ciao a tutti.